Ciao, sono Leura Vera. Per imparare a improvvisare i primi passi sono la parte più difficile. Per questo ho realizzato una serie di esercizi elementari di improvvisazione. Con questo corso imparerai a suonare 12 standard jazz molto conosciuti, sui quali realizzerai 32 esercizi differenti, in ordine crescente di difficoltà. Ogni brano viene spiegato ed analizzato per capire come funziona uno standard jazz ed è accompagnato da due backing track per esercitarti, una più lenta ed una più veloce. Di ciascun pezzo potrai quindi imparare il tema e poi eseguire gli esercizi che passo dopo passo ti insegneranno i rudimenti nell'improvvisazione jazz. Gli esercizi sono costruiti sugli accordi, partendo da fondamentale triade, fino ad accordi di settima e di nona. Nelle ultime lezioni scoprirai anche la scala pentatonica, la scala blues e la scala viva. Il corso ti accompagna quindi nei primi passi, partendo da zero, ma introduce anche concetti più avanzati con i quali continuerai a esercitarti per molto tempo. Le prime lezioni sono gratuite, se vuoi provarle è sufficiente registrarti sul sito. Se hai domande su questo o sugli altri videocorsi, o comunque se hai piacere di entrare in contatto con me, scrivimi. Aspetto tue notizie. Ciao!